ed ecco un altro video di unboxing super codici sconto io sono isam e questo è il nuovo proiettore wambo della xiaomi e costa davvero pochissimo con il codice sconto che vi lascio come al solito nella descrizione del video e anche su sindrome da shopping.com la scatola abbiamo il manuale di istruzione del proiettore ed è in lingua inglese perché questa è la versione globale abbiamo il proiettore che dovrebbe essere molto silenzioso e anche piccolissimo per quanto riguarda la lampada è una lampada a led con una durata di 30 mila ore 10 anni diciamo ea una luminosità di 300 anzi lumens la risoluzione nativa e di 720p supporta però la proiezione dei video fino a 1080p quindi full hd ovviamente li riscala alla risoluzione nativa e li proietta questi video si possono trasmettere al proiettore che li proietta tramite hdmi si possono mettere anche all'interno di una chiavetta usb si possono anche proiettare tramite entrata a via abbiamo anche i cavetti di collegamento eventualmente se avete un dispositivo o una telecamera che funzionano ancora con cavetti coassiali nella scatola abbiamo un cavetto hdmi hdmi e anche il cavetto di alimentazione e ovviamente per gestire il proiettore ci serve un telecomando e viene fornito senza batterie che bisogna procurare sono batterie tripla adesso apriamo questo pacco che ho già aperto e sbirciato cosa c'è dentro perché è una cosa molto interessante per me e sicuramente per chi ha l'insta 360 one r ovvero i filtri della freewell in realtà ho già i filtri nd da 8 e da 16 solo che adesso c'è tantissimo sole tranne oggi ecco e quindi mi serviranno quelli da 32 e anche quelli da 64 perché così alto generalmente le telecamere normali anche se la giornata è molto luminosa non avrebbero bisogno di dei filtri così alti il motivo è che per le telecamere a 360 gradi che riescono a captare tantissima luce a volte è necessario mettere dei filtri più scuri perché mettere i filtri sono necessari in realtà se volete filmare un video normale non sono necessarie perché la telecamera se ne occupa tranquillamente se volete filmare dei video di super qualità da cinema ecco sono assolutamente necessari ed è necessario anche saperli utilizzare impostare la telecamera correttamente con la velocità dell'otturatore il doppio degli fps che avete scelto e adesso ho completato la mia collezione wow e ovviamente come al solito freewell manda un bellissimo manuale di istruzioni all'interno della scatola che vi guida all'utilizzo dei vari filtri e anche un panno per pulire il filtro o la lente apriamo un po di pacchi che arrivano dalla cina a proposito volevo dirvi una cosa molto importante è che dal primo di luglio l'unione europea ha imposto il pagamento dell'iva anche per i prodotti con valore meno di 22 euro è una bruttissima notizia specialmente per chi vorrebbe magari acquistare non so un pezzo di ricambio una vite o qualcosa dalla cina dovrà pagare anche l'iva in più anche l'elaborazione della pratica eccetera eccetera ma la bellissima notizia è che la cina ha deciso di pagare loro l'iva e tutti i prodotti che vi linko nella descrizione del video o che trovate su sindrome da shopping.com o anche iscrivendosi sul canale telegram che vi compare qua sullo schermo perché il nome particolare sindrome da shopping senza una o se costano meno di 150 euro c'è l'esenzione dell'iva se costano di più di solito vi linko quelli che arrivano direttamente dall'unione europea quindi non dovete pagare nulla in più ma comunque troverete sempre sotto ogni posto anche in fondo alla pagina tutto quello che vi serve per pagare il meno possibile ok questo è un prodotto molto particolare molto interessante e perché permette di mettere un altro sellino per bambini o anche per adulti se volete e sopra qualsiasi tipo di bicicletta arriva anche con un sellino che potrebbe eventualmente cambiare con uno più comodo comunque questo anche se non ha gli ammortizzatori sembra abbastanza imbottito e va benissimo per i bambini e la cosa interessante che arriva con il supporto e i poggiapiedi le istruzioni in lingua inglese con le fotografie colorate è molto facile da montare e se abbiamo un bambino piccolo e vogliamo un po più di sicurezza ci danno anche questo cinturino regolabile per una tenuta migliore ovviamente se volete prendere questo kit vi consiglio anche di prendere quest'altro perché è molto utile per appoggiare le mani specialmente se non avete posto sul manubrio perché abbiamo un manubrio anche per il bambino questa parte in alluminio molto leggera quindi non vi appesantisce il manubrio assolutamente abbiamo i due supporti per montarlo sul manubrio e le due maniglie in silicone altro prodotto dalla cina senza iva come abbiamo detto wow bellissimo e il nuovo mini aspirapolvere di xiaomi il mi vacuum cleaner mini che dovrebbe essere leggerissimo potentissimo e molto facile da svuotare e la cosa che lo contraddistingue di più rispetto ad altri aspirabriciole o mini aspirapolvere che ha oltre all'aspetto bellissimo che adesso vedremo tipico di xiaomi molto pulito e il motore brushless ma vediamolo subito perché sono curioso di vederlo dal vivo anch'io bellissimo sembra un termos apertura molto fluida bellissimo questo qui filtro molto facile da aprire potente incredibile abbiamo due potenze di aspirazione ma veramente veramente potente davvero potente mi sono mai immaginato mi sa che metterò da parte il mio mini aspirapolvere aspirabriciole della blitzwolf e utilizzerò questo per il laboratorio nella scatola abbiamo un cavetto usb usb c per ricaricarlo si ricarica da qui abbiamo una bocchetta a lancia una mini spazzola da montare eventualmente sulla bocchetta lancia se vogliamo arriva addirittura con il caricabatterie 5 volt 2 ampere che probabilmente hanno rubato ad apple ed è questo il motivo reale per il quale apple non mette più con gli iphone i caricabatterie e nonostante che sia molto facile da utilizzare arriva con un grossissimo manuale di istruzioni in tutte le lingue è bellissimo e anche la sensazione è una qualità superba grandi show me adesso vediamo questi aggeggi che sono molto interessanti che cosa sono sono dei repellenti ma non sono i classici repellenti che trovate nel mercato perché questi sono multifrequenza ovvero hanno vari emettitori uno è che emette sulla frequenza che disturba mosche e zanzare una frequenza che disturba gli scarafaggi e un'altra che disturba i piccoli animali tipo dei topi e nella scatola ne arrivano due adesso qualcuno si chiederà ma isam tu essendo farmacista e vendete queste cose anche in farmacia funzionano o non funzionano in realtà funzionano ma non come pensa la gente ovvero una volta che iniziano a funzionare danno molto fastidio a questi animali o questi insetti è come se qualcuno col martello pneumatico si mettesse lì vicino a te a martellare per una giornata intera sicuramente non ti metteresti lì se hai la possibilità di allontanarti lo stesso vale anche per gli insetti scarafaggi e piccoli animali sicuramente non resteranno lì nella zona si metteranno lì a fare quello che devono fare ma sicuramente le zanzare che sono lontane non si avvicinano sicuramente anche gli animali che sono lontani a meno che non siano proprio affamati affamati e lì c'è il cibo non si avvicinano quindi funzionano non uccidono gli animali non uccidono le zanzare ma diminuiscono drasticamente il numero di punture e il numero di zanzare che si avvicina e soprattutto questi in particolare sono sicuri per gli animali da compagnia e ovviamente non può mancare un robot in un unboxing se no non è un unboxing quindi vediamo che cosa ci ha mandato midea il midea m7 che arriva con il manuale di istruzioni solamente in lingua inglese abbiamo anche una guida rapida all'utilizzo un filtro epa di scorta due spazzole rotanti abbiamo anche il panno per lavare perché questo robot lava e aspira ed è un robot a scansione a laser quindi è intelligente e riesce a fare le mappature come ho fatto a saperlo ecco molto semplice perché qui abbiamo la torretta con il laser e lo scanner che gira a 360 gradi e scansiona l'ambiente nella scatola abbiamo la basetta di ricarica che ha l'alimentatore interno quindi si collega direttamente con un cavetto con spina europea direttamente al muro ci danno anche un adattatore che in realtà non ci servirà perché noi siamo qua in europa però a cavaldonato non si guarda in bocca e nella scatola troviamo anche un dono che un nodo cinese che è storico e qui c'è la storia se volete fermare il video e leggere in inglese il serbatoio sembra abbastanza grosso quello invece dell'acqua non è altrettanto abbiamo i sensori anti caduta due spazzole laterali e il sensore meccanico antiurto e come al solito vi lascio tutti i link assieme coupon sconto nella descrizione del video potete anche a trovarli direttamente sul sindrome da shopping puntocom o anche sul canale telegram se siete interessati a un prodotto in particolare commentate nello spazio commenti e se siete in tanti farò il video recensione completo esaustivo come al solito altrimenti seguite il canale su instagram che saranno le storie dove vi dico la sintesi in 30 secondi